3, 2, 1, via! Un punto! 2, 1, via! Due su due! Signori, questa sera c'è una serata interamente dedicata allo sport che si chiama pala, mazza, glock! Dopo 3 anni fa a casa piena di ciò che nektà, ai piacchi e trigo sai e l'becao! Tutto il bimbo prega, dal tocchi di mastificato, non sono io che va se vuole ad irritare a chi al vore un vant dal portale! Grazie a tutti.